La trasferta di Torino è proibitiva, loro sono una squadra di fenomeni, ma abbiamo battuto Inter, Roma, Samp in trasferta. Andiamo lì senza paura per cercare di fare risultato. Massimo Donati, centrocampista del Palermo, presenta la sfida di domenica prossima a Torino contro la Juventus. I bianconeri sono a caccia della matematica certezza per la vittoria dello scudetto, ma il Palermo lotterà fino alla fine per ottenere il risultato. La Juve è più forte di noi ed è la squadra migliore d'Italia, continua il giocatore. Il pronostico dice uno fisso, ma quando inizia una partita siamo 11 contro 11 e si parte 0-0, poi se saremo più bravi di loro otterremo il massimo. Donati ha parlato anche della tenacia di San Nino che ha cambiato i risultati della squadra. Una delle prerogative del mister è quella di stare uniti e compatti e quindi questo ci porta a sorferire di più. Appuntamento dunque domenica alle 15 allo Juventus Stadium dove il Palermo sarà obbligato a fare risultato per continuare a sperare nella salvezza. Grazie. Grazie.